Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono delle novità sulle mascherine. Restano solo su treni, autobus, metropolitane, comunque sui mezzi pubblici, ma non tutti in aereo vengono cancellate. Il perché? Non si sa. Di fatto se rimangono sui mezzi pubblici devono essere tutti i mezzi pubblici, se li togli su un mezzo pubblico li devi togliere su tutti. Quindi è illogico che sull'autobus, che praticamente è come un aereo, l'aereo è un autobus con le ali. Sì, sull'aereo dicono, ma c'è la ventilazione fatta in un certo modo che ogni tre minuti, sarà vero? Chi lo sa. Comunque, sull'autobus sì, in aereo no. E in treno? Ad esempio, i treni sono come l'autobus, come l'aereo. Hanno solo un mezzo di movimento diverso. Uno è sulle ruote, l'altro sulle rotaie e l'altro vola con le ali. Però il concetto è lo stesso. Solo che sugli aerei in Europa rimaneva solo l'Italia con questa restrizione, lo dice, beh, allora la togliamo. Sui mezzi pubblici tu, con la metropolitana, non è che la metropolitana va in Svizzera, quindi non c'è la differenza. Mentre in Italia, se tu cambi aerei, non so, vai in Europa e prendi un altro aereo, è qui obbligatorio la mascherina, la no, nell'aeroporto no. Era un po', ecco. Pertanto scade il decreto e le mascherine non saranno più obbligatorie se non sui mezzi pubblici e sui treni, tranne gli aerei. Saranno solo facoltative in base alle indicazioni delle compagnie di volo sugli aerei. Un allentamento che segue le indicazioni del Centro Europeo per il controllo delle malattie. Quindi, sull'aereo, la compagnia aerea vi può dire, per salire sul mio aereo devi mettere la mascherina. Diventa non opinabile. Se tu vai sull'aereo e ti dicono qui la devi mettere, tu dici no, io non la metto perché non c'è il decreto dello Stato. Diventa facoltativa in base alle indicazioni della compagnia di volo. Non servono più le mascherine nei cinema e nei teatri. Anche qui che senso ha la differenza perché al cinema rispetto a un autobus è differente? Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri andrà in gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il ministro Roberto Speranza, pur essendo in isolamento perché al Covid, firmerà in serata un'ordinanza a ponte identica alle disposizioni del CDM per consentire immediata vigenza. Niente, ho ancora i sintomi di non aver dormito, come vi raccontavo nei video precedenti, sono rimasto bloccato in aeroporto tutta la notte senza dormire perché hanno cancellato un aereo e poi ne hanno messo un altro la mattina alle 6. Cancellato alle 11 di sera e messo alla mattina alle 6. Comunque, stavamo dicendo che niente mascherina ha messa, dove resta solo consigliata. I fedeli potranno anche tornare a utilizzare le acqua santiere, Gaudet Mater Ecclesi. Non c'è bisogno vaccinale per gli over 50. Rimane l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi lavora nelle strutture sanitarie. Quindi viene cancellato l'obbligo vaccinale che scadeva il 15 di giugno e non è stato rinnovato. Mentre l'obbligo per il vaccino rimane per chi lavora nelle strutture sanitarie e per i dipendenti esterni delle RSA, Residenze per Anziani. Per gli altri no. Per chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione entro il 15 giugno del 2022, dovrà comunque pagare i 100 euro di sanzioni erogate dall'Agenzia delle Entrate. Ad oggi sono 2,4 milioni gli over 50 individuati dal Ministero della Salute che rischiano di essere sanzionati. Mentre l'Agenzia delle Entrate ha già inviato 1,7 milioni di comunicazioni per avvio del procedimento sanzionatorio. Una sorta di preavviso della multa per chi ha commesso l'infrazione e chi ha 10 giorni per dimostrare il contrario, ovvero di essersi vaccinato attraverso la documentazione di fare ricorso. Mentre si allentano le misure, qualcuno solleva dubbi sull'utilità delle mascherine, soprattutto dopo il contagio dello stesso Ministro. Sul lieveamento dei casi e il rallentamento del calo dei ricoveri, probabilmente a causa della nuova variante Omicron 5, il Direttore Generale di Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza tranquillizza dicendo andiamo verso uno stato di endemia in cui ci aspettiamo che ci saranno delle ondate ricorrenti, ma di portata e intensità limitata e a basso impatto clinico. Grazie ai vaccini siamo protetti dalla malattia grave pur non avendo raggiunto l'immunità di gregge. La forma endemica significa che si va verso il riconoscimento del Covid come malattia comune che tornerà ogni anno chissà per quanti anni però quello che è fondamentale è l'impatto clinico. Cosa vuol dire? Quante saranno le ospedalizzazioni, quante saranno i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari quello è l'importante non il numero dei contagi perché questa Omicron 5 viene definita la variante Covid fa diventare il Covid la malattia più contagiosa che sia mai esistita sul pianeta da quando si ha memoria di questi virus, di queste epidemie. Quindi Omicron 5, con la sua variante del Covid con Omicron 5, è diventata più contagiosa del morbillo la più contagiosa in assoluto ed è per questo che c'è un aumento dei contagi però le ospedalizzazioni sono in forte diminuzione questo è il fatto realmente molto importante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti qui su Tele Italia adesso ricomincerò a fare video anche su Tele Italia Seconda Rete e anche poi questi video verranno condivisi sulla pagina di Facebook che si chiama Tele Italia grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo tra poco grazie a tutti grazie a tutti